Ultimo video sulla gestione dei soldi, quindi vogliamo investire, vogliamo investire in ETF? Che piattaforma usiamo? Allora, due piattaforme, una Fineco facilissima e comoda, ti permette di fare un piano di accumulo mensile su un singolo ETF a un prezzo bassissimo, il più basso che si possa trovare in Italia, conveniente, comoda e l'app è veramente funzionale e ben fatta. Quindi per la filosofia detta nel video precedente, un solo ETF lo fai con Fineco. Vuoi fare cose più complesse, lavorare su più mercati, più azioni, quindi avere un pacchetto, un portafoglio con tanti titoli? Ti suggerisco Interactive Brokers, è molto complicato, l'app fa veramente pena perché è complicatissima, fatta male in generale perché già è complicata la materia, ma la compi con un'app fatta male, richiede molta esperienza e può essere comunque economico e conveniente perché se investi ogni mese non si paga la tariffa mensile di costo del servizio. A voi la scelta!